ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi vediamo nuove scopertone low cost medium e high end makeup qualcosa di skin care qualcosa capelli quindi c'è tutto alcune di queste cose ve le ho già recensite su instagram ma so che non tutti mi seguite in tutte e due le piattaforme nel caso su instagram sono giuliacomo87 cominciamo da una chicca ragazzi questo qua è il nux will prodigere or floral allora io non sempre amo su di me gli oli luminosi con la perla old gold perché trovo che su una pelle molto chiara come la mia non siano sempre super belli questo ha questo shin rosato caldo che enfatizza l'incarnato chiaro in un modo incredibile è secco profumato ovviamente floreale ma comunque estivo ok bello bellissimo nella live dove l'abbiamo applicati insieme vi faccio proprio vedere sul braccio lo shin di colore è proprio bello viene con me quest'estate c'è anche il formato più piccolo tra l'altro come adoro vivo respiro per questa questa l'abbiamo usata nell'ultimo no perché non so in che ordine vedete video nel penultimo tutorial è la lumene CC color correcting cream in light bellissima coprenza media bella anche stesa con le mani spf 20 levigante sulla grana ma leggera zero spessore mi piace tantissimo quindi super super consigliata e lumene comunque è un price point veramente onesto poi questo prodotto io l'ho comprato grazie a voi è un sacco che me lo consigliate finalmente l'ho preso e anche se adesso è disponibile se non sbaglio la forma il formato travel ma meglio ancora questo è il to face better than sex for play questo è un primer ciglia nero ok è fatto in questo modo con lo scovolino dell'astomero ragazzi questa è una bomba me l'avete consigliato un milione di volte finalmente l'ho preso sotto anche ai miei mascare uso sempre il black bubble di neve quando non devo registrare non devo testare niente così lo strucco facile fa un effetto incredibile so adesso perché vi piace così tanto è veramente un bellissimo primer ciglia devo dire veramente bello grazie del consiglio ah una cosa istemporanea sapete tutti che io sono innamorata di questa spf low cost lo uso tutti i giorni si vede perché non ho consumato questa parte è l'hydro v protect face gel spf 50 plus di bondi sand mi piace moltissimo questo prodotto senza profumo non come dogogenico dermatologicamente testato mi piace da morire è un fluido leggero idratante ma non unto non pesante eccetera mi è piaciuto così tanto e secondo me ha un price point così competitivo che ho trovato della stessa linea quello corpo si chiama hydro v protect spf 50 water resistant anche qua non profumato adatto a pelli sensibili dermatologicamente testato non l'ho ancora messo in uso ovviamente ma l'ho pagato qualcosa come 10 euro cioè secondo me questi solari sono ottimi a un prezzo veramente competitivo a maggior ragione da spiaggia nel caso quindi top poi sapete che da quando ho sireni beauty di cui vi ho parlato un milione di volte ho un po mollato l'auto abbronzante perché con quella un effetto naturale eccetera ma arrivando l'estate dai cioè un po abbronzati vogliamo essere no bene ho comprato questo tanto per e me ne sono innamorata ragazzi questo è coco e neve si chiama sunny honey anti aging tanning serum questo è unico nel suo genere e adesso vi spiego adesso vi spiego perché è unico nel suo genere allora innanzitutto questo è stato pensato per essere applicato al di sotto della tua crema quindi non è più quella spf che quando lo metti di aspettare 5 ore a fare la tua skin care routine questo è un siero anti age autobronzante che puoi usare con sopra la tua crema normalmente e già questo secondo me è un plus incredibile inoltre questo reagisce parecchio col col colore c'è proprio un bel colore dorato non arancione ma il suo bello è che per pelli chiare è stato pensato anche miscelato alla vostra crema viso quindi fai la tua skin care metti il tuo siero poi metti la tua crema e misceli questo prodotto io per adesso l'ho usato miscelato perché mi bastava un effetto morbido è anche previsto l'utilizzo tutti i giorni fino a quando raggiungi il colore desiderato e anche la formula dunque loro definiscono anti aging antiossidante abbiamo l'estratto di dragon fruit niacinamide acido poliglutammico e tra l'altro acqua l'autobronzante glicerina niacinamide e dai abbiamo l'estratto di papaya che è un super antiossidante e e mi piace tantissimo ottimo bello gestibile non ti rovina lo step della tua skin care routine mi piace tantissimo bello bello magari quando sono appena un po più naturalmente abbronzata lo provo anche puro perché se guardi le foto prima e dopo sul loro sito colore è proprio un bella dorata abbronzata poi hanno questo è estemporaneo ho preso questo nuovo kit di real techniques perché io le sponge le uso tantissimo tutti i giorni quindi sono dopo un po vanno anche cambiate io ho trovato questo set con le miracle complexion grande più tre mini e ho pensato fosse geniale tra l'altro bellissimi colori l'ho preso così estemporaneo poi altra super scoperta non il prodotto ma il formato allora io di questo prodotto vi ho già parlato quando uscì l'anno scorso per chi vuole idratazione ma non sopporta niente in faccia o pelle grassa pelle mista pelle che trasuda pelle che non sopporta neanche l'aria con 40 gradi questo è il prodotto che fa per voi solo che naturalmente è in un boccione così no adesso hanno fatto quello piccolo questo qua adesso è 30 ml di the ordinary e si chiama natural moisturizing factor ma natural moisturizing factor plus beta glucan ora io ho il formato grande di la ma vi faccio vedere anche questo qui è un moisturizer una crema gel acqua trasparente fresco come veramente una secchiata d'acqua in viso proprio fresco in applicazione già assorbito questo è l'idratante per chi non vuole niente sul viso perfetto ovviamente per pelle grassa tra l'altro contiene i beta glucani ne abbiamo parlato anche di recente in una formula lab care i beta glucani fanno un sacco di cose buone per la pelle sono lenitivi antiossidanti lavorano sull'elasticità della pelle eccetera eccetera e ovviamente abbiamo datemi la formula così ve la leggo bene abbiamo un blend di amminoacidi gli amminoacidi poi in base all'amminoacido fanno cose diverse per cui abbiamo un blend di amminoacidi tra i quali glicina lanina serina perolina eccetera quindi lavoriamo idratazione acqua trasdermica anche qua elasticità poi abbiamo l'acido poliglutammico che trattiene tantissimo l'acqua c'è chi dice che sia addirittura cinque volte più idratante dello ialuronico vai a saper se è vero comunque ottimo l'acido glutammico e poliglutammico abbiamo il trealosio che è uno zucchero che trattiene tantissimo l'acqua all'interno della pelle lo ialuronico l'allantoina che è un intivo fosfolipidi sfingolipidi è una formula bella ma leggera come l'acqua per l'estate ma steve assoluto è acqua acqua letteralmente poi anche qui il formato nel prodotto voi sapete che e lo dico per l'ultima volta poi non lo specifico più sapete che io amo molto i nuovi rossetti di mac i maximal ma avrei lasciato comunque anche le formule matte retromata catalogo ce l'avrei aggiunta come formula anyway sono usciti anche i nuovi maximal mini e questo è il mio colore preferito tra tutti che è il warm teddy ok ma me ne piacciono tantissimi dei nuovi colori però warm teddy it's my jam cioè dai secondo te bellissimo e fantastico che esiste già questo formato perché dai dei rossetti ne abbiamo tanti spesso se non è il nostro preferito non lo consumiamo questo insomma è un buon modo per non sprecare e quindi sono super felice che siano già usciti in questo formato nonostante sia un nuovo lancio poi dov'è ti ho perso altro prodotto secondo me bellissima idea innovativa l'ho usato pochissime volte ma mi piace molto la texture l'effetto e l'idea questo è un voto di purologi che si chiama color fanatic 21 essential benefit allora questo è un leave in spray quindi non senza risciacquo però multifunzione la cosa bella è che agisce anche nel caso da protezione solare i capelli loro dicono che fa allora e preserva il colore e permette di pettinare meglio i capelli migliora l'effetto del blow dry idrata un effetto smooth bla 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 ok si può usare persino come primer prima dei prodotti styling insomma ha veramente tante funzioni in più previene la rottura dei capelli proviene dai danni da calore e da aggressioni esterne quindi come anche l'estate appunto ok e poi dicono dei tuoi che riduce la secchezza controlla il crespo insomma adesso qua ti dicono tutto però è un prodotto molto bello perché fa molte molte cose non sporca l'unica cosa io personalmente lo pettino anche è consigliato anche nei modi d'uso però è comodissimo che un prodotto così possa fare così tante cose per i capelli è veramente un effetto mise in butte immediato ma con un sacco di funzioni utili cioè puoi anche fare meno step quindi non mettere la protezione per il calore o la protezione estiva o un pre styling o un prodotto da blow dry fa tutte queste cose insieme geniale e un'altra super scopertura che ho fatto è questo ve ne ho parlato su instagram sapete che il mac stack mascara di mac inizialmente non ne ho impazzita poi ho imparato a usarlo e mi è piaciuto molto questa cosa l'ho detto mille volte adesso è uscito in marrone e ragazzi è un punto di marrone bellissimo perché è un marrone marrone ok cioè non quei marroni che diventano rossi o che sembrano neri ma solitamente cosa fa il mascara marrone alla fine ha un effetto più morbido e meno drama del nero però questo essendo un mascara che di per sé da molto volume drama riesce a ottenerlo anche col marrone infatti mi è piaciuto un sacco questo qua veramente come voi volevo invece segnalare non come novità ma come deal come vantaggio perché tutti questi prodotti ve li ho già recensiti è uscito questo bundle di nude sticks ok dove c'è il primer di cui vi ho parlato il mese scorso bellissimo in stick il ue barrier hydrating stick stupendo poi c'è il bellissimo stick viso naughty and spice che è uno dei primi colori diventati virali è un bellissimo rosa scuro con una punta bruciata all'interno stupendo e poi nel kit c'è bondi bay il bronzer iconico che io ho scoperto anni e anni fa grazie ad adanna davinson e bondi bay che è proprio il loro bronzer proprio d'eccellenza cioè questo stick questo kit ci fai tutta l'estate ora sapete che l'anno scorso quest'anno è uscito bondi bay che è il colore un pochettino più chiaro e un pochettino più neutro come sottotono questo è bondi bay questo è bondi bay ok però bondi bay l'ho usato per un decennio tipo amo tantissimo nude sticks non so più come dirlo cioè io amo nude sticks follemente e secondo me questo kit è conveniente tra l'altro nelle scatole avete lo specchio sono pensate anche come travel e secondo me questo bundle merita la nostra attenzione e quindi l'ho inserito poi allora questo prodotto è costosello è costosello però l'ho inserito perché a me piace da una 10.000 e quindi ho pensato vabbè se uno si vuole fare un regalo una cosa così poi insomma abbiamo sempre il codice sconto io ve ne parlo ultimamente ragazzi per ricone ha tirato poi tre o quattro novità in fila una meglio dell'altra dal blur moisturizer alla maschera l'aluronico eccetera alla nuova linea pelli sensibili top ma io sono innamorato di questo ragazzi questo qua è il pericone md cold plasma plus che è sempre la nostra linea preferita di pericone the intensive gel mask questa è una crema una maschera anti age strutturata gelificata tant'è che tu la prendi ok la massaggi sul viso fino a quando il gel è distribuito in modo omogeneo e poi la lasci lì un quarto d'ora e dopo lasciato qui super fresca super sottile ovviamente se non gel ma con un blend di attivi incredibile e a risciacquo hai quell'effetto tightening e quell'effetto smooth levigato stupendo non è una maschera lipidica non è il cremone morbido è questa è proprio la maschera quando vuoi un anti age fresco perfetto anche per l'estate che aveva proprio quell'effetto lift amo amo questa maschera tantissimo a livello formula adesso vi dico addirittura contiene sentite qua un brevetto dell'azienda che si chiama liquid crystal delivery system che permette un maggiore assorbimento degli impre dei principi attivi sulla pelle cosa che noi adoriamo effetto cooling stupendo sentite la formula così impazzite con me vabbè acqua glicerina caprile le ceride base che ti piace poi l'estratto di beta vulgaris poi abbiamo la tetraxedicina scorbata e vitamina c insieme alla scorbile palmitato due forme di vitamina c poi abbiamo sentite qua ialuronico vitamina e e l'estratto di come si chiama olivello spinoso poi abbiamo l'acetilex a peptide 8 argilerina il peptide delle rughe azione botox like poi i studi hanno dimostrato un'azione molto bella per rughe del leone e rughe della fronte dove siamo poi poi abbiamo il copper tripeptide 1 peptide tra l'altro molto costoso a livello formula che non ha soltanto un'azione anti age ma anche una forte azione antiossidante e illuminante poi abbiamo all'interno il palmitol tripeptide 1 e il tetrapeptide 7 la combo stimolazione endogena di collagene di glicosaminoglicani e azione anche anti infiammatoria e insomma è una formula ragazzi io adoro questa maschera e tanto adoro anche la texture e l'effetto freschezza che dà quindi sarà come è certamente tutta l'estate poi abbiamo quasi finito perché non sono tantissimi poi ho preso il nuovo maybelline super shock brow glue ok questo gel nuovo per sopracciglia di maybelline l'ho preso prima del video dei prodotti che non compro più ve l'avevo detto che avevo preso questo e quello di mac questo leggevo nelle caratteristiche sul sito c'è scritto che dura e che resiste a sudore all'acqua 24 ore di durata eccetera a differenza di precedenti formule di questo tipo che sembravano pomade questo lo trovo più rigido del mio solito di abh ma meno di una pomade cioè le sopracciglia comunque non le senti incollate alla pelle anche se trovo lavori meglio se col dito pressi bene il prodotto contro la pelle però non lo trovo troppo gessante non sbianca diciamo che per chi vuole un gel sopracciglia che abbia una buona durata e lo vuole low cost secondo me questa è un'ottima alternativa già il più costosi che non siano proprio la classica pomade ecco per capirci poi revolution pro dewy glaze serum highlighter in golden glow packaging sappiamo tutti miss charlotte il boy questo a differenza di charlotte ve lo mostro è molto più naturale è più una traslucenza che una scena metallico e mi piace proprio perché ultimamente io sono in questa vibe qui c'è questo effetto traslucido leggero naturale bello questo per pelle matura è perfetto perché ti da vedete è come è luminoso ok assolutamente luminoso ma in un modo più naturale e non metallizzato ok cosa che per me è fondamentale ultimamente per quello che è il mio gusto e soprattutto a tutti i giorni per avere sì un po di riflettenza ma sobria mi sta piacendo tantissimo e quindi è no sì me lo volevo me ne volevo parlare più perché è il mio gusto di illuminante almeno al momento come grande scoperta low cost ragazzuoli questo nuovo trittico di revolution ma quello che vi consiglio meno è il blush drop bright light perché io ho preso il colore no è l'unico credo blush drop ora il colore è bellissimo ma non è pigmentato come un blush in crema o liquido ok tant'è che adesso non ho messo un chilo no ok se tu una volta che l'hai sfumato hai un effetto super naturale quindi o non amate molto il trucco e quindi volete una roba sobria o questo ha senso perché è un po allora questi qua sono fatti sulla base del trio di drunk elephant di bronzi il blush e il big oldie ok e come non ho apprezzato tantissimo il blush di drunk elephant questo è molto simile se amate quello però amate questo invece i due fantastici sono questi allora ragazzi il glow drops in stardew gold è identico al big oldie sapete che io amo follemente il big oldie di drunk questo tu lo puoi mettere anche su tutta la pelle prima del trucco e ti dà questo shin di luce ma vedete non è perlato è glossato ma non unto e ultimamente il mio gusto va sempre di più verso quella direzione lì e le bronzing drop in scorch light medium perfection queste qua vanno bene sia a pelle che miscelate che io l'ho messo l'altra sera non avevo voglia di truccarmi e ho usato solo questi tra qui ho messo questo su tutto il viso questo con le mani nelle zone di sporgenza e questo tamponato sul viso il risultato ovviamente è super naturale ok però questo anche da miscela dov'è no questo è blush questo è perfetto cioè è veramente un'alternativa low cost a un trettico di prodotti high end perché poi drink elephant ragazzi è high end e quindi ve lo volevo segnalare e poi mi sono innamorata di un siero che trovo veramente straordinario ok tra l'altro mi sono letta tutte le caratteristiche e le misce ragazzi ha colpito ancora questo è il pro collagen rose micro serum plumping hydration serum questo è un siero idratante replumping con perle in sospensione ovviamente esce gelificato però tu hai nonostante si asciughi rapidamente hai questo feeling di idratazione allora l'unica cosa ovviamente c'è il profumo che tra l'altro è sa di rosa però non è quella rosa che ti toglie il fiato come alcuni prodotti di by terry che invece lì mi manca l'aria cioè trovo sia ragionevole quanto meno ed è proprio un siero replumping morbido glossy a mi piace tantissimo dunque sentite qua dunque innanzitutto 72 ore di idratazione questo non so se sia vero loro dicono clinically proven quindi direi di sì è così dunque all'interno ci sono 7000 micro droplets di rosa 7000 all'interno che poi ovviamente si rompono quando lo lavori sulla pelle ok fresh dewy e bla 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 ora la base è acqua glicerina caprile trigliceride schiuma di prato poi abbiamo carité cartamo poi abbiamo non leggo l'estratto di rosa l'estratto di pavina padina pavonica che è proprio tipico di tutta la linea pro collagen di elemis abbiamo gli amminoacidi del collagene e vari estratti che non vi sto neanche a citare e la vitamina e è il classico siero che tu utilizzi quando vuoi un'azione plumping luminosa ma luminosa nel senso come pelle idratata che riflette la luce non come perla riflettente super idratante ma leggero nonostante sia idrolipidico è proprio leggero perfetto per questa stagione e mi piace veramente molto devo dire che insomma elemis è un'azienda che lavora benissimo sono anni che ve ne parlo non per niente ho finito sì l'ultima cosa che vi mostro ma in realtà non l'ho ancora provata però ve la mostro sono i nuovi perché l'ora mercier ha rifatto la linea dei primer rendendoli ancora più performanti soprattutto perché ha detto che adesso leggevo durano tipo hanno aumentato nettamente la durata del miglioramento rispetto alla durata del fondotinta quando ne applichiamo ora prima ce l'ha scritto sopra senza siliconi adesso non lo vedo scritto però non trovo manco siliconi quindi non lo so probabilmente non è più per loro un selling point io ne ho preso due l'hydrating e il blurring però ho provato solo il blurring in realtà perché una volta l'ho provato adesso che mi ricordo questo è bellissimo perché a parte che io ho preso i formati piccoli perché i piccoli sono da 15 cioè più che sufficienti questo qua sembra un primer levigante sapete di quelli che asciugano ma non che mattificano non so come spiegarlo però non ha il feeling siliconico ma si asciuga subito sparisce e ti dà questo effetto blurring sulla pelle molto molto bello molto bello senza avere quel feeling super siliconico più alla pori ok questo molto bello l'hydrating non l'ho ancora provato però insomma in generale Laura Mercier devo dire che dei primer cioè ne ha fatto una carriera nell'ultimo decennio e quindi sono molto speranzosa comodo il fatto che siano appunto con il con i formati così bene questo per oggi è tutto spero di cuore di esservi stata utile se così è stato mi raccomando pollici in su e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video voi avete scoperto qualcosa di nuovo di succoso che io posso comprare fatemelo sapere vi ricordo che se tutto questo è molto di più potete usare il nostro codice sconto come sempre un affiliato tutta colpa di Giulia tutta cat e tutto maiuscolo vi voglio bene e ci vediamo tra poco in live su Instagram un bacione ok ok Grazie a tutti.